Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox Oggi ci troviamo in Natural Disaster perché il primo episodio vi è piaciuto veramente tantissimo E quindi ovviamente ne faremo degli altri Tra l'altro hanno aggiunto anche delle nuove mappe Come per esempio la mappa della pista dei go-kart E non vedo l'ora di farvela vedere Mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video già da adesso E adesso ragazzi molto presto potremo giocare Oh mio dio guardate cos'è successo a quella povera prigione E' tutta distrutta sembra fatta tipo di cartone Se vi siete persi il primo video che ho fatto su Natural Disaster In pratica ragazzi verremo spawnati in questa isola E ci sarà sempre una cosa diversa Un tornado, un'eruzione vulcanica, uno tsunami Può esserci di tutto E noi dovremo cercare ovviamente di sopravvivere a questo disastro naturale Adesso ci troviamo in un cantiere Ecco nel cantiere io se non mi ricordo male potrei iniziare a guidare tipo qualcosa Posso entrare all'interno di uno di questi No forse Sì 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 si può infatti E poi guidare questi macchinari Che figata aspettate posso entrare anche qua per caso Oh sì che lo posso Ah guardate Guardate che figo Sto guidando Che cos'è questo? Un muletto? No non è un muletto Oh mio dio lo sto guidando Guardate che figata Ovviamente non dobbiamo Oh non dobbiamo cadere fuori dall'isola Altrimenti moriamo Quindi no Che stai facendo? Candy Candy Torna subito sull'isola Vabbè sapete cosa fa Se tu vuoi cadere cadi pure Io voglio salvarmi la pellaccia a tutti i costi E adesso tra non molto sapremo Che tipo di disastro naturale Che calamità naturale accadrà in quest'isola Potrebbe essere uno tsunami Potrebbe essere una pioggia Ecco infatti ecco Adesso arriva la pioggia Guardate la pioggia di fulmini Colpisce tutto Oh mio dio questa sarà devastante Ok allora Il fulmine è appena caduto qua Non può cadere due volte nello stesso punto Giusto? Si sa È matematico ragazzi Un fulmine non può cadere sullo stesso punto Quindi se io resto qua Dovrei riuscire a sopravvivere Guardate che botte che arrivano alla mappa Tutti Oh mio dio Quello è stato fulminato davanti ai miei occhi Non ci posso credere Che figata Questo è Torre ragazzi Il dio dei fulmini È Torre che sta scatenando tutta la sua potenza Sull'isola di Roblox Oh mio dio Quello era vicino Quello era veramente molto vicino a me Ripeto Se io sto qua Probabilmente non mi prenderà mai il fulmine Perché non penso che cada due volte sullo stesso punto Quindi posso stare qua Tra l'allero Tra l'allà Ballo Salto Posso fare quello che voglio Mentre gli altri cercano tutti quanti di salvarsi A me non mi prende il fulmine Perché è già caduto Tra l'altro guardate quanto è bella ragazzi La mia skin È o non è veramente bella? Secondo me è bellissima Oh ma quando finirà questa pioggia? Prima o poi finirà questa pioggia No? Cioè dai Non può durare per sempre Scusatemi Allora Prendiamoci questo E andiamo in giro con la macchina Salve qualcuno vuole un passaggio? Volete venire qui? Vi aiuto se volete un passaggio Salite tutti sopra Oh è finita Siamo riusciti a sopravvivere A questo disastro naturale Io ovviamente ragazzi Cercherò di non morire mai Nel senso Vorrei sopravvivere a tutti quanti Ci proveremo Non è sempre semplice Anzi A volte è molto molto difficile Questo Devo dire la verità È stato abbastanza facile Guardate che ali Belle che c'ha questo Oh mio dio Ma me le voglio comprare anch'io Ok prossimo Oh bene bene La pista dei go-kart Guardate quanto è bella ragazzi La pista dei go-kart Oh quello si è buttato Allora andiamoci a prendere subito Una macchinina Sì 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 Devo prendermi In quale mi prendo Mi prendo questa arancione Ok prendiamoci la macchinina Arancione Sali su Sali sulla macchinina Perché non sale Ok ok siamo saliti Dobbiamo guidare Dobbiamo guidare Devo essere primo Ah smettetela Sto schiantando contro tutte le persone Toglietevi dalla strada Pista Si sono bloccati questi Oh no Oh no sta arrivando il disastro naturale Che cosa sta succedendo Sento tantissimo vento ragazzi Secondo me Ci sarà una bufera Tra non molto Allora la macchina non sale più Per qualche strano motivo Oh mio dio No 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 Una tempesta di neve È una tempesta di neve Ci dobbiamo mettere da qualche parte Al sicuro Si 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 da qualche parte Dove non mi può prendere la neve Perché se no mi ammazza Quindi per esempio In un posto al chiuso Un posto al chiuso Devo cercare di entrare là dentro Vediamo se ce la faccio Oh mio dio Questo sarà difficile Questo sarà veramente difficile Ok qua dovrei essere Più o meno Al riparo Giusto? Non mi dovrebbe fare del male Qua la neve Oh mio dio Ma qua non ci sono I posti al riparo È tutto all'aperto Non voglio morire Dobbiamo restare qua ragazzi Perché adesso se no Congeliamo di freddo Qualcuno mi porti per favore Una cioccolata calda E Non so un piumino Me lo potete portare un piumino Guardate non c'è più nessuno In giro Tutti quanti si stanno barricando All'interno di un posto chiuso Perché ovviamente Altrimenti muoiono di freddo Dai credo che qua dovrei riuscire A sopravvivere No siamo abbastanza al riparo Non siamo proprio Chiusi chiusi Però siamo al riparo No? Guardate che casino Sta combinando Questa bufera di neve Oh c'è qualcuno là sopra Oh sono tutti chiusi là dentro Ho capito Quindi ci si poteva chiudere Da qualche parte C'è un tunnel Vedete Oh siamo riusciti a sopravvivere Anche a questo Disastro naturale Io voglio il vulcano Voglio l'eruzione vulcanica È veramente super divertente L'eruzione vulcanica Vediamo che mappa esce Dai dai dimmi il vulcano Dimmi il vulcano Oh di nuovo Questa qua Ok è uscita la stessa mappa Di prima Però questa volta Anziché guidare la macchina Io voglio andare in cima A questa costruzione Come faccio a salire fino lassù Ah qua ci sono le scale Perfetto Prendiamo le scale Devo salire in cima Voglio fare tutto il parkour Fino ad arrivare sopra Perché potrebbe succedere Qualsiasi cosa Mettete che arriva uno tsunami Ragazzi E con lo tsunami Se io mi trovo Quassù in alto in alto Riesco a salvarmi sicuramente E ora come faccio a salire fino a là Toglietevi Toglietevi tutti Ok siamo riusciti a salire Perfetto Va 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 Scala 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 Ok stiamo arrivando fino in cima Io e l'amichetto mio L'ho spinto Ops L'ho spinto Che cos'è Un terremoto No ok Il terremoto non mi conviene proprio stare lassù Oh mio dio No 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 Cosa sta succedendo No 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 Candy ti fai male Candy ti fai male Oh mio dio sto morendo Sto morendo Ora muoio Tra non molto muoio No se mi schiaccia il mondo ragazzi Mi arrabbio tantissimo C'è un terremoto Dobbiamo scappare Dobbiamo essere Oh mio dio Mi ha schiacciato tutto Mi è caduto tutto il palazzo sulla testa Guardate questa è la mia testa No dai Che sfortuna Mi è caduto l'intero edificio sulla testa Guardate che macello Sta cadendo l'edificio in acqua Non ci posso credere Non avevo mai visto un terremoto così forte in questo gioco È caduto È caduto l'edificio Ciao ciao edificio rip Oh mio dio Ah questa volta abbiamo avuto sfortuna Però ci rifaremo adesso nella prossima partita Vediamo un pochettino cosa esce Dai cambia mondo Vediamo Uh ti prego dimmi il vulcano Ti prego dimmi il vulcano Voglio il vulcano Voglio il vulcano Uh ok Il range La fattoria Hmm Hmm Questa non l'ho mai giocata Sono curioso E c'è un trattore Voglio il trattore Lo voglio guidare io Lo voglio guidare io No No Ci sto arrivando prima io È mio quel trattore Cosa pensi di fare donut Donut È mio Fammi guidare il trattore No Fatemelo guidare a me Uffa Scendi Dai lo voglio guidare io Per favore Se l'hai rubato lui Mannaggia Allora andiamo a dare un'occhiata Un attimino in questa fattoria Ah non ci stanno Né maiali Né cavalli Non c'è niente Tutto vuoto C'è una lanterna però E c'è una ragazza Ciao Chissà cosa accadrà adesso Secondo me è una pioggia di meteoriti Vediamo se ho indovinato Vediamo se indovino la pioggia di meteoriti Oh no La pioggia acida Ok è vicino alla pioggia Comunque no 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 La pioggia acida Non mi piace Ci basterà stare qua chiusi ragazzi E saremo sicuramente in salvo Il problema è che la pioggia acida Riesce a bucare anche le pareti Vedete che quelle due tra non molto Saranno bucate al 100% E entrerà la pioggia No 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 Oh mio dio anche il tetto Oh porca miseria Oh no 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 Ci dobbiamo mettere sotto due strati di tetto Quindi tipo qua Ehi vuoi fare un gioco? Perché non provi a bere la pioggia che c'è fuori? Oh mio dio ci stanno cadendo le mattonelle sulla testa Ah che male che male che male che male Ok restiamo qua Dobbiamo restare sotto il tetto sano Ovvero quello marroncino Oh no la gente sta morendo da tutte le parti Ok qua 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 Ci dobbiamo mettere qua Ci possiamo mettere sotto la paglia Oh no 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 Che è successo? Sono morto Come sono morto? Non ho la più palli idea di cosa sia successo Ma siamo morti No Uffa È difficilissima la pioggia acida Guardate Sta bruciando tutto quanto Soltanto in due sono riuscite a sopravvivere Mio dio Vuol dire che era veramente super super difficile Che figo Guardate che bello Oh mio dio Ci troviamo nell'isola del razzo Ma posso salire tipo sul razzo E andarmene sulla luna? È possibile Mi sa proprio di no Mi sa che non si può fare questa cosa Però possiamo salire qui su Anche se è una mossa rischiosa Perché se dovesse avvenire per esempio un terremoto Questo cade tutto E io mi faccio malissimo Quindi stiamo rischiando tantissimo Dai 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 Ok Uh c'è un pulsante Lo posso premere? Posso premere il pulsante? Oh cacchio Oh no Lo sto facendo decollare Scusami sono stato io? Eh Ragazzi Ragazzi Ho visto il razzo muoversi Quando ho cliccato il pulsante Ho visto il razzo muoversi E quello che fa? Lo sto scendendo con un palo Guardate Si muove Oh no Oh mio dio L'abbiamo lanciato Oh mio dio Abbiamo lanciato il razzo No No Mi è caduto un meteorite in testa Non c'è Avete visto che mi è caduto il meteorite sulla testa ragazzi Ho alzato lo sguardo Appena ho alzato lo sguardo C'era un meteorite che mi stava cadendo sulla testa Oh mio dio Che figo Questa mappa è veramente fighissima Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Io mi sono divertito tantissimo Dal vostro candy è tutto E noi ci vediamo sicuramente In un prossimo video di Roblox Grazie a tutti 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 Grazie a tutti